La nomina della squadra assessoriale del sindaco Pinuccio Calabro ha aperto il dibattito negli ambienti politici di Barcellona Pozzo di Gotto. Non si è fatta attendere la nota del movimento Città Aperta che ha affermato di avere sperato che venissero scelte persone di alto profilo con competenze specifiche nei settori chiave in grave sofferenza. Il gruppo di opposizione constata che così non è. Le nomine, a detta di Città Aperta, rispondono a mere esigenze di rappresentanza di quote politiche e non ci si può aspettare nulla di nuovo o incisivo. In particolare il comunicato punta l'attenzione sulla riconferma in giunta di Filippo Sottile, già vice sindaco nell'amministrazione materia. Nomina arrivata dopo una campagna elettorale all'insegna del disconoscimento dell'amministrazione precedente. La sostituzione dell'ingegnere Natale Munafossa di instabilità, scrive Città Aperta, che aggiunge la nomina di Viviana Dottore come unica donna, neofita della politica, sembra essere dettata da vincoli imposti dalla legge sulle quote rosa. Colpisce la presenza di Dario Paterniti, continua la nota. Un politico di vecchio corso, proveniente da Tortorici, è presentato come tecnico in uno dei ruoli più delicati, come quello di assessore al bilancio. Sarebbe stata imprescindibile, sostiene il movimento, la presenza di un profondo conoscitore della realtà barcellonese, che potesse trovare il giusto equilibrio tra la necessità di risanamento, la strada dello sviluppo e la tutela dei più deboli.